un'azione che possiamo fare noi con le spalle al muro la più facile di tutte è andare avanti e spingere e fuggire più che andare a colpire non è così facilmente prendi i colpi ok è possibile chiaro però è qualcosa che riesce meglio a chi lo fa tutti i giorni cioè un pugile d'accordo per dare il colpo puoi anche non guardare quindi anche possibile stare così però diciamo è più probabilità se tu guardi per la spinta il bersaglio è così grande che io posso anche non guardare quindi la guardia deve essere anche con la testa ok quindi il tronco mi metto di profilo così poi vi rimane neanche nella registrazione ognuno nella box alla impostazione che vuoi pensate a un klitschko pensate a un lewis pensate a chi volete voi a un tyson ok ognuno ha la sua guardia non ce n'è una meglio di un'altra è legata molto a delle caratteristiche abbiamo detto e caratteriali o morfologiche atletiche dell'atleta ok però sicuramente se sono chiuso all'angolo e non sono mohammed ali è chiaro che tenderò a scendere un po sulle gambe tenderò a flettere un po in avanti il tronco tenderò a flettere il tronco su se stesso tenderò a chiudere il mento ok così da chiudere l'area sulla quale posso ricevere i colpi ma continuare comunque a poter avere il controllo di movimenti necessario per combattere e magari poter colpire ecco nel momento in cui vengo chiuso all'angolo io posso abbassare totalmente la testa perché così solo i colpi che arrivano di lato o da sotto possono essere pericolosi ma di certo colpi che arrivano diretti qui rompono le mani ora a chi viene dall'isporto a combattimento gli sembra strano ma si rompono le mani per questo sono introdotte i bendaggi e i guantoni pensate all'ufc ai primi ufc non si usavano i bendaggi poi si iniziavano tutti a rompere le mani nel pancrazio non quello antico magari li valevano anche i morsi nel pancrazio moderno si colpisce a mano aperta non per non fare male all'altro perché purtroppo altrimenti i pugni non li tirava più nessuno nel ufc sono stati introdotti i guantini perché iniziavano a prendere molto piede i lottatori in quanto chi tirava i pugni poi si rompeva le mani ok e immaginate quanto se le rompe le mani chi per strada non è abituato a colpire perché poi si sviluppa una tecnica per colpire a mani nuda e non rompersela allora iniziamo a riapprezzare gli insegnamenti del karate o yama che si allenava per irrobustire la mano e magari tanti ridono pensando a colpire su un muro per rigidirsi ma per strada non ce l'hai guantoni ok non hai il vendaggio rigido se ve lo siete mai fatti non credo qualcosa di simile può essere se ti metti un nastro da pacchi da prima del polso a tutta la mano vedrai che ti senti veramente una potenza incredibile senza fare nient'altro solo con i vendaggi rigidi io ricordo la prima volta che l'ho fatto mi veniva voglia di colpire le paredi dello spogliatoio perché ti senti invulnerabile ok senza di quelli le mani delle fratturi e soprattutto se le frattura chi ti aggredisce perché chi ti aggredisce stiamo pensando che non è un campione perché se fosse un campione come facciamo noi a difenderci è impossibile parte per primo è un campione se avevamo la prozione magica non stavamo qui ok quindi questa che è la guardia più chiusa che io possa avere nella box noi possiamo anche chiudere di più se riusciamo a guardare anche solo la pancia da qui comunque la spinta riusciamo a darla la spinta è il corpo avanti le braccia vanno indietro questa non è la spinta la spinta è corpo avanti braccia indietro quindi sono qui come se volessi dare una testata ok lo proviamo un attimo lungo questo asse scusate sono paralizzato con la schiena così da questa postura corpo va avanti e braccia indietro dai provatele un poco via devi colpire dove è scoperto vedi che sotto è scoperto vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze sono danilo capuzzi il presidente della famosa otsuka club ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte vuoi imparare a farlo anche tu fai una prova gratis con me unisciti ai miei studenti clicca il link che trovi nei commenti